Un saluto dalla redazione di Udinews e bentrovati a questa edizione del nostro TG che apriamo con lo sport, apriamo con l'Udinese che tra due ore circa scenderà in campo alla Dacia Arena contro il Frosinone, una partita importantissima per i bianconeri. Allora per tutte le ultime novità ci colleghiamo con la sala stampa della Dacia Arena dove è pronto per noi Jacopo Romeo. Buongiorno Jacopo. Ciao Angela, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, oramai il countdown è praticamente quasi finito perché tra meno di due ore l'Udinese scendereà in campo in una gara determinante contro il Frosinone che sarà la prima di un miniciclo di partite fondamentali per capire quale potrà essere la seconda parte di stagione della squadra di mister Davide Nicola. Un Udinese che è chiamato assolutamente a fare risultato perché gioca contro un Frosinone in condizioni disperate di classifica ma che ha cambiato allenatore proprio nella marcia d'avvicinamento a questa partita. Mercoledì si è dato sulla panchina dei giallo blu Marco Baroni. Questa magari può essere un'incognita in più ma l'Udinese è chiamata a guardare in casa propria è chiamata ad avere come unico obiettivo quest'oggi i tre punti per ricacciare una delle concorrenti non definitivamente no perché manca un girone oltre alla fine del campionato ma per ricacciare indietro in maniera importante una squadra che avrà bisogno comunque di un'impresa per centrare l'obiettivo della salvezza. Allora Davide Nicola per farlo a quali uomini si affiderà? Bene le formazioni ufficiali non ci sono ancora perché la squadra arriverà qui allo stadio tra poco intorno alle 13.30 come sempre un'ora e mezza prima della partita e solo allora gli ultimi dubbi che aveva Davide Nicola sino a ieri si schiariranno. Ieri in conferenza stampa il mister aveva dato alcune indicazioni sibilline però aveva fatto capire come visti anche gli impegni ravvicinati tra i gari in sette giorni e visti anche i quattro giocatori in diffida Berami, Pussetto, De Paul e Fofanapio aggiunta tutti e quattro titolari inamovibili sino a questo momento della stagione potrebbe esserci qualcosa che cambia. Vi abbiamo già detto nel corso della settimana come potrebbe ritornare in difesa Nicola Sopoco e giocare come uno dei tre centrali come centrale di destra con l'avanzamento di Struger Larsen sulla corsia ebbene quale corsia? Questo è un altro dubbio perché Larsen gioca molto bene sia a destra che a sinistra dunque potrebbe andare anche sulla corsia Mancina e a quel punto Marco D'Alessandro che tanto bene ha fatto da quella parte contro l'Inter traslocherebbe nuovamente sulla destra sul ruolo naturale dove già aveva giocato contro l'Atalanta. Gli altri dubbi riguardano anche un po' l'assetto da scegliere se è un assetto un po' più guardingo tra virgolette o uno un po' più propositivo che prevederebbe l'impiego in contemporanea di Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto che ieri ha festeggiato il suo compleanno e magari vuole regalarsi anche un gol regalarlo ai tifosi e l'Udinese e Kevin Lasagna oppure se uno di questi tre resterà fuori perché durante la settimana le prove hanno previsto un po' tutti e tre queste tipologie di metodi di gioco vedremo su chi cadrà la scelta definitiva di Mr. Davide Nicola possibile dunque che si parta con uno tra Pussetto e Lasagna al fianco di Rodrigo De Paul per mantenere comunque una mediana più folta in modo tale da non perdere l'equilibrio e da non sbilanciarsi. Queste sono un po' tutte le tematiche di questa gara senza considerare che torneranno anche alcuni ex come Zampano e Perizza. Grazie allora Jacopo Romeo per averci presentato un po' la gara di questo pomeriggio tra meno di un'ora saremo di nuovo in diretta con la Daccia Arena per avere qualche informazione in più anche sulle formazioni, lo faremo assieme a Massimo Campazio e ai suoi ospiti in occasione della nostra trasmissione di approfondimento studio e stadio in diretta come detto dalle 14. Adesso andiamo avanti con il nostro OTG e passiamo alla cronaca con un incidente stradale un grave incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno a Moraro sulla provinciale 5 all'altezza del campo sportivo due auto si sono scontrate frontalmente una delle due auto era una minicara a bordo della quale c'era una donna di 89 anni che è stata sbalzata fuori dal mezzo nonostante le manovre rianimatorie la donna è deceduta ci sono altri due feriti in questo incidente le persone che erano a bordo dell'altra automobile protagonista di questo frontale sono stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso di Gorizia abbiamo visto nelle immagini anche i rallentamenti al traffico che ci sono ancora proprio in corrispondenza del punto in cui è avvenuto l'incidente e a proposito di traffico subito un aggiornamento anche per quanto riguarda la situazione sulla A4 vediamo che c'è coda nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova il tratto tra San Giorgio di Nogaro e il Bibio a 4 a 23 a seguito di traffico intenso sono tante le persone che stanno rientrando probabilmente tanti lavoratori verso i paesi dell'est in occasione delle festività natalizie questa mattina c'erano stati dei rallentamenti anche alla barriera autostradale dell'Isert con code che avevano toccato i 3 km adesso la situazione si è normalizzata si segnala appunto solo questo traffico intenso queste code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e sta interessando anche il Friuli Venezia Giulia l'operazione Christmas Clean Stations avviata a livello nazionale dal capo della polizia Franco Gabrielli per garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie e anche dei treni in un momento particolare particolarmente delicato a livello internazionale segnato dai recenti attentati terroristici e comunque caratterizzato da un aumento dei viaggiatori per le vacanze natalizie e di fine anno nell'intero territorio regionale nei giorni scorsi sono stati impegnati 85 operatori i quali nell'arco dell'intera giornata hanno controllato 25 scali ferroviari e ispezionato numerosi bagagli sia depositati sia al seguito dei viaggiatori sono state identificate 123 persone e 5 sono state indagate in stato di libertà è stato inoltre tratto in arresto un cittadino romeno in quanto destinatario di due provvedimenti di cattura per l'espiazione di due condanne per un totale di 4 anni di carcere per il reato di furto aggravato e pene concorrenti in occasione del fermo lo straniero è risultato anche in possesso di un cellulare rubato ed è stato pertanto segnalato alla procura di Udine per ricettazione La politica adesso con la manovra di bilancio che sta arrivando al rush finale in Senato con un maxiemendamento ufficiale atteso per oggi dalle 14 a Palazzo Madama opposizioni all'attacco la maggioranza giallo-verde replica per la prima volta c'è stata la trattativa con l'Unione Europea e Pittoni, senatore eletto in Friuli Venezia Giulia riesce a salvare l'emendamento per evitare il declassamento dell'ufficio scolastico regionale Sentiamo i particolari da David Zanirato In un clima di forte tensione con le opposizioni sulle barricate dopo continui slittamenti del maxiemendamento atteso da ieri la maggioranza giallo-verde salvo sorprese dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata con l'inizio delle votazioni dalle ore 20 questa volta grazie a questa trattativa l'obiettivo dell'Europa che era delimitarci all'1,6% invece si chiude al 2% quindi con qualche miliardo in più a disposizione per cui ovviamente non è vero quello che si legge su qualche giornale oggi che la manovra sarebbe stata dettata dall'Europa abbiamo concordato dei salvi e adesso stiamo rivedendo attraverso il maxiemendamento la manovra e sulla base di questi salvi proteste dai gruppi di opposizione per i metodi utilizzati il testo della manovra avrebbe dovuto essere pronto in diversi momenti e poi alla fine adesso lo aspettiamo oggi pomeriggio alle 14 quindi questo è veramente difficile dirlo quello che sappiamo è che il governo ha già deciso di porre la fiducia quindi è una manovra finanziaria che danneggerà pesantemente gli italiani metterà in difficoltà persone, famiglie con le pensioni però anche con le pensioni per esempio però che in sostanza non è stata discussa in Parlamento non sarà stata discussa in Parlamento o in Commissione intanto dalla ragioneria sarebbero arrivati alcuni rilievi di criticità sulle coperture delle norme contenute nella bozza dell'emendamentone circolato ieri da qui la necessità di modifiche e limature che hanno occupato la mattinata prima dell'ufficializzazione del testo definitivo da sottoporre al voto dell'aula previsto per le ore 14 testo che dovrebbe contenere anche l'emendamento promosso dal senatore Friulano Pittoni per difendere l'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia Ieri sera risultava ancora inserito non comporta spesa aggiuntiva per lo Stato perché i soldi in più sono a carico del Ministero per cui conto che arrivi in porto senza particolare difficoltà In questo quadro sembra disinnescato il rincaro dell'IVA ma all'interno della maggioranza si registrano ancora tensioni sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda taxi NCC La cosa è passata veramente con addirittura senza la relazione della Commissione quindi in pratica ha fatto tutto il governo adesso metterà la fiducia quindi non siamo riusciti a portare avanti gli emendamenti nostri pur avendo rappresentati diversi E intanto in attesa del Via Libera la manovra di bilancio la CGA di Mestre lancia un allarme Nel 2019 le famiglie e le imprese rischiano di pagare un miliardo in più questo a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di bilancio attualmente in discussione in Parlamento L'azienda sanitaria 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli ha approvato in questi giorni un bando per l'associazione di 136 posti letto per anziani non autosufficienti di tipologia 3 quelli che secondo la classificazione si riferiscono a pazienti a maggiore complessità assistenziale proseguiamo l'obiettivo dell'omogeneità territoriale del fabbisogno di posti letto convenzionabili per anziani non sufficienti ha dichiarato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi e con questo bando diamo supporto a una zona della regione che per la sua conformazione geografica e sociale ha bisogno di particolare attenzione sono 155 complessivamente i posti letto aggiuntivi previsti dalla regione per la nostra azienda ha commentato il direttore Pierpaolo Benettollo 19 dei quali già assegnati all'ASP di Tolmezzo e all'ASP Moro di Codroipo numeri importanti che consentono di migliorare i servizi in favore degli anziani e delle loro famiglie in un territorio, quello montano, aggiunto Benettollo in cui la percentuale di assistenza a domicilio è tra le più alte della regione grazie a questo bando sale a circa 950 il numero dei posti letto per anziani non autosufficienti convenzionati nell'azienda 3 che sta lavorando anche per migliorare il dialogo tra famiglie, distretti e strutture sanitarie e fare in modo che la casa di riposo non rimanga un servizio isolato a sé stante e spostiamoci adesso a Monfalcone dove questa mattina è stato inaugurato al Museo della Cantieristica il memoriale per le vittime dell'amianto oltre a una ricostruzione storica di cos'è l'amianto e per quale motivo ha provocato e continua a provocare tante morti tra gli operai dei cantieri navali e tra i loro familiari su un pannello sono riportati simbolicamente un centinaio di nomi di coloro che sono stati riconosciuti ufficialmente vittime dell'amianto nei primi tre processi che si sono svolti finora a Gorizia sentiamo il servizio, le interviste di Francesca Santoro Il Museo della Cantieristica ha il suo memoriale per le vittime dell'amianto un atto dovuto come segno della ricerca per la giustizia Sono due anni che ci stiamo lavorando ci sembrava incredibile che all'interno di questo museo che è stato l'albergo operai che sta proprio a ridosso dell'azienda non ci fosse un punto importante dedicato al dramma che le famiglie di Monfalcone ma non solo di Monfalcone hanno vissuto quindi questo memoriale delle vittime dell'amianto ha un significato importantissimo per il nostro cuore per il nostro animo, lo dico da figlia, lo dico da mamma lo posso dire rappresentando le mogli i mariti anche perché poi adesso siamo anche alla seconda generazione dei morti di amianto bastava una fibra all'interno del memoriale sono rappresentati anche i simboli il terlis che a casa il papà, il marito faceva lavare e faceva trasportare questa fibra maledetta anche nei polmoni dei suoi cari quindi ci sembrava incredibile che non ci fosse questa rappresentazione fondamentale perché fa parte della nostra storia purtroppo fa parte del presente e purtroppo farà parte anche del futuro è necessario da un lato appropriarci di quella che è stata l'esperienza di Monfalcone degli operai che sono stati esposti e che continueranno a morire per i prossimi anni dall'altro serve che vi sia consapevolezza su questi argomenti proprio affinché storie come questa non si riproducano rispetto all'esposizione ad altri materiali pericolosi e ci sia quindi una maggiore attenzione e sensibilità alla sicurezza negli ambiti di lavoro e al rispetto dei diritti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori Udine ricorderà domani nel ventesimo della strage i tre poliziotti Adriano Ruttar, Giuseppe Guidozani e Paolo Cragnolino morti a causa dell'esplosione di un ordigno appeso alla serranda di un negozio a Udine l'antivigilia di Natale del 1998 tanti le cerimonie previste alla deposizione dei fiori in programma alle 8.30 sul luogo della strage all'inizio di via Aquileia di via Aquileia seguirà alle 9 nella chiesa della Beata Vergine del Carmine la messa celebrata dall'arcivescovo di Udine alle 11 alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli ci sarà l'intitolazione dell'area verde di via Crispi e l'inaugurazione di un monumento realizzato dall'artista friulano Roberto Milan alla cerimonia saranno presenti il sindaco e il prefetto di Udine oltre alle autorità civili, militari e religiose che puntualmente da 20 anni si stringono attorno ai familiari delle vittime 11.000 euro dal frico di Cividale ai boschi di Sappada una folta delegazione arrivata da Cividale del Friuli ieri a Sappada per consegnare quanto raccolto a favore della località fortemente colpita dal cataclisma dello scorso ottobre l'8 dicembre scorso quando a Cividale del Friuli decine di volontari hanno cucinato e offerto oltre 2.000 porzioni di frico è raccolto appunto circa 11.000 euro 10.846 per la precisione da parte di tutte le persone che hanno aderito all'iniziativa Davide Cantaruti volontario della protezione civile consigliere comunale di Cividale assieme alla locale squadra della protezione civile e anche tanti rappresentanti della realtà cividalese hanno consegnato al sindaco di Sappada Manuel Pillerhofer l'intera cifra che l'amministrazione comunale di Sappada ora valuterà come investire abbiamo voluto dimostrare la nostra solidarietà a Sappada in questo momento di difficoltà e accoglierli così nella comunità friulana ha dichiarato Davide Cantaruti cambiamo argomento adesso e apriamo la pagina degli spettacoli perché sarà il teatro Odeon di La Tisada ad ospitare venerdì 14 marzo la data zero di Diari Aperti Tour il nuovo attesissimo progetto live di Elisa che prenderà il via la prossima primavera e che vedrà quindi proprio La Tisana la sua grande anteprima i biglietti per questo nuovo evento organizzato da Zenit SRL e FNP Group in collaborazione con il comune di La Tisana e la regione saranno in vendita sul circuito di Ticket One a partire dalle 18 di oggi diventano così quattro i concerti di Elisa in Friuli Venezia Giulia dopo quelli del 19 e 20 aprile entrambi già sold out e del 31 maggio biglietti ancora in vendita che si terranno al Politeama Rossetti di Trieste compositore, direttore d'orchestra e pianista il maestro Giovanni Allevi ha stregato ieri il pubblico del Teatro Verdi di Gorizia nell'unica tappa regionale del suo Equilibrium Christmas Tour sold out per il concerto durante il quale col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono l'artista ha assunto tutti i diversi ruoli attraverso una scaletta in cui ha alternato le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera senza dimenticare alcuni pezzi tradizionali natalizi in una personale rilettura al suo fianco ha suonato l'orchestra sinfonica italiana nata dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d'orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali e riapriamo adesso la pagina sportiva perché le strade del Friuli Venezia Giulia torneranno protagoniste nel 2019 grazie al Giro Rosa la principale competizione internazionale sul fronte del ciclismo femminile Maniago, Gemona, San Vito al Tagliamento l'altopiano del Montasio e la salita al Castello di Udine i pezzi forti della competizione presentata oggi in città sentiamo le interviste di David Zanirato Non si interrompe l'amore del Giro Rosa per il Friuli Venezia Giulia Beppe Rivolta, patron della Corsa Rosa anche nel 2019 un atritico di tappe davvero incredibile e quest'anno si ritorna nel 2019 con due tappe anzi due tappe e mezza perché avremo un arrivo su Maniago e la tappa regina del Giro che arriverà sull'altopiano del Montasio con partenza da Gemona del Friuli e l'ultima a incoronare la regina del Giro la San Vito al Tagliamento su al Castello di Udine che oggi siamo qua è una location stupenda molto bella ho visto la salita per salire verso il castello credo che le ragazze lì si devono impegnare mica male però grande amore per il Friuli grande amore nei confronti di tutti gli abitanti del Friuli è sempre vi ripeto un'emozione essere qua con voi La Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa presentava l'esempio delle donne atlete con una grande fotografia dello Zoncolan e col titolo Lo Zoncolan ecco la volontà quest'anno è di riproporre il Montasio dopo l'edizione maschile del 2013 perché arrivare in Malga è un abbinamento tecnico e turistico eccezionale però non c'è solo c'è l'arrivo sul Castello di Udine e c'è la terz'ultima tappa a Maniago io apprezzo le donne apprezzo il loro sforzo e ho apprezzato moltissimo che l'anno scorso nel fare lo Zoncolan 130 sono partite 130 sono arrivate c'è un bellissimo rapporto collaborativo con Beppe Rivolta l'organizzatore del Giro Rosa e quindi direi che dobbiamo continuare abbiamo fatto 4 anni probabilmente il prossimo anno facciamo sosta perché bisogna anche però ci inseriamo i maschi al posto delle donne a proposito del giro maschile del Giro d'Italia il prossimo anno anno sabbatico e poi si ritorna alla grande sì è il programma solito che tu in particolare conosci molto bene nel senso che dopo 3 anni si ferma un anno perché non puoi stressare le persone oltre lì illecito diciamo che se tutte le cose vanno punto giusto ci saranno dei colpi straordinari ma non solo di effetto mediatico ma anche di importanza tecnica siamo in chiusura diamo assieme uno sguardo alle previsioni del tempo un anticiclone sul Mediterraneo occidentale una depressione tra l'Inghilterra e la Scandinavia fanno affluire sul nord Italia correnti occidentali umide per la giornata di oggi anche nel pomeriggio e la sera avremo cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con la possibilità di nebbie e specie di notte sul calcio e a Trieste possibili piovigini vento moderato da ovest in quota domani domenica avremo al mattino cielo sereno poco nuvoloso in giornata aumento della nuvolosità per il passaggio di velature che a tratti potranno mascherare il sole probabili nebbie di notte e temperature che domani saranno di 0-4 gradi le minime in pianura a 4-7 gradi di massima scusate 9-11 gradi di massima invece sia in pianura che sulla costa e con queste belle immagini delle nostre montagne noi chiudiamo questa nostra diretta adesso ci fermiamo per un attimo poi è dalle 14 di nuovo live per seguire assieme Udinese Frosinone il prossimo TG questa sera alle 19 grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti ovviamente su Udinus TV grazie per la vostra grazie per la vostra